Depotenziamento del reparto di chirurgia dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Lo ha denunciato la UIL che ha inviato un esposto al direttore generale Gaetano Sirna. Per il sindacato si assiste ad un'anomala gestione del personale medico dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale a Barcellona da parte del direttore della stessa unità di Milazzo, dopo che con una procedura strana ha disposto trasferimenti di personale medico nei reparti dall'ospedale di Barcellona a quello di Milazzo. Non si comprende a tutt'oggi quale criterio organizzativo applica il direttore del reparto della città del Capo, hanno scritto il segretario provinciale della UIL Funzione Pubblica Pippo Calapai, il coordinatore provinciale UIL Medici Mario Salvatore Macri ed il responsabile aziendale della UIL Funzione Pubblica Medici Paolo Calabro nel depotenziare frequentemente la chirurgia generale di Barcellona. Nell'ospedale della città del Longano ci sono soltanto cinque unità mediche in servizio per l'espletamento sia delle attività proprie di reparto che del pronto soccorso, rispetto alla dotazione organica di Milazzo che può disporre di sei medici più il direttore, costringendo pertanto il personale medico in servizio a Barcellona ad una turnazione più intensa. Per i sindacalisti della UIL che hanno chiesto l'intervento del direttore generale, questa è l'ennesima dimostrazione della disattenzione, pressa pochismo nel gestire un servizio essenziale come quello chirurgico che si svolge al Cutronizoda.